Quando nel dopoguerra si aprono i processi di Norimberga, attenzione, parliamo di processi, so che tanti di voi penseranno, ma come? Non è stato uno solo? No, ce ne sono stati diversi. Comunque, quando stavamo dicendo che nel dopoguerra si aprono i processi di Norimberga, gli alleati, le potenze alleate decidono di far luce su tutto quell'ampio spettro di comportamenti, di decisioni, di determinazioni che il regime nazista aveva portato avanti durante la guerra e anche in certi casi prima della guerra per interessi propri contro il genere umano. Non c'è solo il grande processo di Norimberga, quello che vede alla sbarra i capi del regime nazista. Quasi tutti mancano all'appello sostanzialmente solo Borman, di cui poi si scoprirà diversi anni dopo la morte a Berlino, ma ne abbiamo già parlato in un apposito video, e Heinrich Müller, il capo della Gestapo, sparito nel nulla. Ci sono anche altri processi, processi industriali e il processo ai dottori. Ufficialmente United States of America vs Karl Brandt and Alios. Ecco, Karl Brandt era uno dei tanti dottori, dei tanti medici, dei tanti esperti di medicina e di genetica che avevano prestato la propria opera al regime nazista per ricerche, ricerche sperimentali su esseri umani, cavie viventi che nella maggior parte dei casi non sono sopravvissute agli esperimenti, o per ricerche genetiche. Alla sbarra, nel processo dei dottori che si tiene a Norimberga, mancano sicuramente due nomi. Uno, manca perché è stato sottovalutato, non è stato ritenuto importante, o addirittura è stato ritenuto un personaggio di secondo piano e non centrale nella vicenda, un errore madornale. Si chiamava Otmar Freyer von Ferscher, professore universitario di genetica, con una specializzazione per quanto riguarda i gemelli. Forse già questo vi dice qualcosa. Già, perché il secondo nome mancante alla lista, e questo perché l'attitante, era un allievo del professor von Ferscher, un allievo e un collaboratore stretto. Si erano parlati a lungo, prima e durante la guerra. Si erano scambiati opinioni e studi. Era stato un suo allievo, era stato un suo discepolo, era stato un suo collaboratore. Era stato colui il quale era stato soprannominato l'angelo bianco, o Todesengel, l'angelo della morte. Parliamo di Yusef Rudolf Mengele. Per chi ha vissuto ad Auschwitz dal maggio del 1943 al gennaio del 1945 ed è sopravvissuto a quell'inferno in terra, a quel lager di sterminio che era Auschwitz, con le sue varie concatenazioni, i suoi subcampi, i crematori, le camera gas, le fabbriche interne che consumavano uomini e donne, La baracca dell'infermeria non rappresentava un luogo di sollievo, anzi a volte rappresentava l'incubo, l'incubo in terra, l'incubo peggiore possibile. In infermeria più che curare si studiava, si vivisezionava, si uccideva. Questo perché dal maggio del 1943 fino a pochi giorni prima della fuga delle SS e dell'arrivo d'Armata Rossa, in quel campo, in quella infermeria, c'era Josef Mengele, Hauptsturmführer delle SS, un uomo che doveva aver votato la vita al giuramento di Ippocrate, ma che invece aveva sviluppato delle tendenze sadiche, ma soprattutto un interesse, potremmo dire malato, assolutamente inumano, nei confronti dello studio dell'antropologia. Mengele aveva studiato medicina, si era laureato negli anni precedenti all'inizio della guerra, proprio sotto la guida di Ottmar Freier von Ferscher, di cui era stato assistente all'Università di Francoforte. Ma dopo la laurea, Mengele aveva deciso di entrare nel partito nazista e successivamente nell'ASS. Nel 1940 era stato richiamato alle armi, quasi un anno dopo lo scoppio della guerra, e inserito nel corpo medico. Inizialmente, vista la sua esperienza nel servizio di leva con l'affanteria leggera da montagna, i Gebirgejäger, si pensava che potesse essere aggregato proprio alle truppe da montagna. Invece si era offerto volontario per le Waffen-SS, per le nascenti Waffen-SS, il reparto combattente, il reparto pretoriano della Guardia Nera di Hitler. E proprio in tali vesti era stato aggregato, come ufficiale medico appunto, alla Panzer Division Viking delle Waffen-SS, che era stata spedita sul fronte orientale durante l'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica. Qui, bisogna dirlo, Josef Mengele aveva dato anche segni di coraggio. Aveva salvato la vita a due soldati carristi, che erano rimasti intrappolati all'interno del loro Panzer incendiato, e proprio per questo si era meritato la croce di ferro. Successivamente aveva rimediato una leggera ferita, ma che fosse leggera o seria, importante per lui è che fosse stato dichiarato dopo quella inabile al servizio attivo, inabile al combattimento, e quindi non più adatto a essere spedito appresso alle parti di prima linea. Josef Mengele era stato così depennato dalle liste delle Waffen-SS, e trasferito, trasferito all'ufficio centrale per l'igiene e la razza. L'ufficio che doveva, teoricamente, studiare la genetica nazista. Era un ufficio che sovrintendeva alle tristemente note fattorie della vita. Quei luoghi in cui il regime inviava donne scelte per procheare il maschio perfetto, l'essere ariano puro delle aberrazioni, come possiamo pensare oggi. Una eugenetica rivoltante, uomini che giocano a Dio, si credono delle divinità con il potere di decidere del futuro dell'umanità. Josef Mengele non è rimasto a lungo in quell'ufficio centrale, perché nella primavera del 1943 ha ricevuto un nuovo incarico, quello di capomedico del subcampo dei Rom e dei Sinti ad Auschwitz, a Birkenau, Auschwitz II. E come responsabile medico di quel campo, fino all'agosto del 1944, quando il campo stesso venne smantellato, i prigionieri uccisi nelle camere a gas, e ciò che restava trasferito nella parte centrale di Auschwitz, Mengele aveva iniziato lì una carriera da diavolo. Lo chiamavano der Weiser Engel, l'angelo bianco, semplicemente perché al di sopra della divisa da capitano dell'SS indossava sempre un camice, candido, da medico appunto. E con quello si presentava alla banchina perroviaria di Auschwitz-Birkenau. Selezionava all'arrivo i nuovi arrivati, da una parte gli abili al lavoro, dall'altra quelli destinati subito alle camere a gas. La sua opera di medico diabolico non si era fermata alle selezioni, faceva molto di più, faceva delle selezioni ulteriori. Se una baracca ad esempio veniva colpita da un'epidemia di tifo petechiale, non curava, ordinava alle guardie di uccidere tutti gli occupanti e distruggere la baracca col fuoco. Se nella baracca dei bambini si voleva fare una selezione, Mengele arrivava con un metro, misurava da terra uno stacco di 150 centimetri, segnava una linea col gesso e faceva allineare su quella linea tutti i bambini. Chi non superava il livello sulla linea veniva ucciso lì, sul posto, con una pistola puntata in fronte e una pallottola nel cranio. Aberrante, vero? Aberrante per qualsiasi essere umano, ma ancora di più per un medico, per chi dovrebbe aver giurato di proteggere la vita umana, di fare il possibile per salvare vite umane. Ma Mengele non era un salvatore, era l'araldo della morte, anche perché chi veniva chiamato in infermeria il più delle volte non ci andava per delle cure, veniva semplicemente chiamato perché doveva essere sottoposto come cavia a degli esperimenti. Gli esperimenti che finivano il più delle volte con la morte, morte per un colpo alla nuca, con la pistola, morte bastonate da parte delle guardie, morte per iniezioni letali, di fenolo ma anche di aria nei polmoni o nel ventricolo, morti atroci. Chi sopravviveva restava assegnato a vita, senza un occhio o senza entrambi gli occhi, castrato, senza anestesia, privato di una gamba, a volte con le dita delle mani o dei piedi, ridotte a moncherini. Questo era Josef Mengele, un medico diabolico, un medico che nel corso dei suoi 21 mesi ad Auschwitz sarebbe divenuto un vivisezionatore, un terrore assoluto, soprattutto per i bambini e per i gemelli, ossessionato dai gemelli, al punto da posizionarsi in banchina a selezionarli e a preservarli per i suoi studi. Ogni volta che trovava dei gemelli mono zigoti, la prima cosa che faceva Mengele era quella di separarli dal gruppo, farli tatuare con una sigla particolare ZW, Zwillinge, gemelli, e individuare tra i due chi era quello che era avvenuto al mondo per primo, che diventava automaticamente il Zwillingens Vater, cioè il teoricamente padre gemello, o meglio il gemello anziano, il gemello superiore. I suoi studi sui gemelli di carattere comparativo, ma anche sugli occhi dei gemelli e sull'apparato riproduttivo dei gemelli era diventato qualcosa di straziante. Aveva cercato sul tavolo operatorio Josef Mengele di riprodurre dei gemelli operando bambini di etnia rom, ovviamente fallendo e facendo morire a questi bambini di cancrena. In altri casi aveva cercato Mengele di trovare delle correlazioni tra l'essere gemelli e avere delle attitudini particolari, oppure sui disformismi, sulla differenza di colore nelle iridi degli occhi, su qualunque anomalia possibile fosse riscontrabile in dei bambini. Tutto quello che ha fatto Mengele, secondo gli studiosi, non era il nome della scienza, era il nome di un concetto malato, un concetto mostruoso che mescolava credenze sciocche, questioni razziali, ideologia, pseudoscienza, charlataneria, tutto mescolato assieme di un'orgia di potere e di paura. Lo sguardo di Mengele, secondo i prigionieri, era sprezzante, aveva un sorriso che terrorizzava tutti quanti, un sorriso e uno sguardo che sembravano dire io posso decidere chi vive e chi muore, io posso decidere come ucciderti, quando e con quale grado di sofferenza. I suoi 21 mesi ad Auschwitz non restavano assolutamente nel silenzio. Quello che lui aveva fatto non poteva essere cancellato. Chi è sopravvissuto ad Auschwitz e ha conosciuto Josef Mengele? Lo ha definito in vari modi, l'angelo della morte, l'angelo nero, l'angelo in bianco, il dottore, l'araldo del demonio, il dottore depravato. Se ne è detto di tutti i colori su di lui. Quando ormai era chiaro che Auschwitz dovesse essere liquidata, Mengele aveva cercato in tutti i modi di cancellare le prove dei suoi esperimenti. Aveva raccolto i campioni e le sue annotazioni. Quello che non era indispensabile lo aveva distrutto nell'inceneritore, il resto lo aveva racchiuso nelle sue cassette. Mancavano solo i testimoni oculari e i testimoni fisici. Gli ultimi gemelli sopravvissuti ai suoi esperimenti dovevano morire, ma pochi giorni prima dell'arrivo dell'armata rossa, le scorte di Ziklon B, il letale pesticido utilizzato per uccidere i prigionieri, erano finite. Il comandante del campo, Rudolf Huss, non poteva fare altrimenti. I russi, arrivando, avrebbero scoperto l'orrore di Auschwitz, un orrore composto anche dagli studi di Josef Mengele. E adesso vi domanderete, com'è possibile che un essere così disumano, un essere abietto, una vergogna per tutto il genere umano non sia stato catturato? Fate bene a farvi questa domanda. Ebbene, nel mare magno della confusione post-bellica, con centinaia di migliaia di profughi, di sfollati, di prigionieri di guerra, di soldati sbandati che si arrendevano, Mengele è passato inizialmente sott'occhio. Nessuno si è accorto di lui. Ce n'è voluto di tempo prima che qualcuno provasse a cercarlo, ma lui era già sparito. Mengele si era rivolto già nel marzo del 1945 alle prime reti naziste per scappare all'estero, per mettersi in salvo. Non si faceva certo illusioni su quello che sarebbe stato il suo destino se fosse stato arrestato dagli alleati o dai sovietici. Era chiaro che se lo avessero catturato con l'uniforme addosso avrebbe rischiato di morire all'istante, fucilato. In altro caso sarebbe stato sottoposto a processo e impiccato. Mengele non voleva terminare la sua vita troppo presto, voleva godersela ancora e magari continuare i propri studi. Quindi si era rivolto a quella che poi si era nota come la rete odessa. Attraverso le rattenlinen, le linee dei topi, le vie attraverso i monasteri della Baviera e del Tirolo, è arrivato a Termeno, un comune dell'Alto Adige. Un comune che diventerà noto per il passaggio anche di un altro criminale in fuga, di cui abbiamo già parlato, Adolf Eichmann. A Termeno, negli uffici comunali di Termeno, prima Eichmann, poi Mengele avevano ottenuto una nuova identità, un'identità fasulla, un'identità che serviva esclusivamente a scappare. Se l'identità fasulla di Eichmann era quella di Federico Bernd Wegener, alto attesino di lingua tedesca, Mengele aveva adottato il falso nome di Wolfgang Gerhardt, anche lui alto attesino di lingua tedesca. E come tale era stato aiutato dal vescovo vicario di Bressanone, Alois Pompanin, che aveva garantito per lui, al punto da concedergli un alloggio all'interno degli appartamenti della Curia a Bolzano, e successivamente un altro passaggio per Genova, dove Mengele si era imbarcato su uno di tanti piroscafi che facevano la rotta verso l'Argentina. Quello che potrebbe scandalizzare la maggior parte di voi è che in Argentina sapevano benissimo chi era Mengele, chi era Eichmann e chi erano tutti gli altri tedeschi che stavano arrivando. Il reparto in migrazione argentino era avvisato, si erano arrivati degli ospiti, dei tedeschi in fuga, dei tedeschi in fuga dalla giustizia. Eppure il governo argentino continuò a elargire visti, a elargire permessi d'ingresso, in qualche caso anche a elargire passaporti. Josef Mengele divenne un ospite, uno dei tanti ospite, al punto da riuscire a essere ricevuto al palazzo presidenziale da Juan Domingo Perón e da sua moglie, Eva, troppo mitizzata negli ultimi anni con musical e altri film. Era stata lei, Eva Perón, a cominciare il marito a sposare la causa dei profughi tedeschi e croati che non scappavano dalla guerra, ma scappavano dalla giustizia dopo aver massacrato intere popolazioni in Europa. Mengele aveva preso un tè molto volentieri con Eva Perón e chissà se le aveva raccontato di cosa aveva combinato ad Auschwitz. Nel frattempo era entrato nella lista dei ricercati internazionali. Lo cercavano gli Stati Uniti, non certo per l'operazione paperclip, perché non poteva interessare un macellaio del genere. La Germania occidentale, la commissione Z di Ludwigsburg, lo cercava lo Stato di Israele, che, come per Eichmann, nutriva un serio interesse nell'assicurare alla giustizia i massacratori del popolo ebraico. E ovviamente lo cercavano anche i privati, a cominciare da Simon Biesenthal, il cacciatore di nazisti. Mengele non si era certo dato per vinto, aveva mantenuto la sua finta identità per qualche anno, sperando che le acque si calmassero. Alla fine degli anni 50 aveva ripreso il proprio nome originale, al punto da farlo inserire nell'elenco del telefono a Buenos Aires. A fargli cambiare idea fu la cattura di Adolf Eichmann, l'arrivo del commando dello Shabak in Argentina, che aveva esfiltrato il criminale di guerra e l'aveva portato a Gerusalemme per il processo. Ebbene, quell'atto, quel rapimento, aveva impaurito nuovamente l'angelo della morte, che da quel momento aveva ripreso a spostarsi, quasi impazzito, con il suo vecchio pseudonimo, quello tenuto a termeno, e viaggiando prima in Argentina, in Uruguay, in Paraguay, dove per un periodo fu al servizio di Alfredo Strössner, il dittatore paraguaiano che massacrò buona parte del proprio popolo. E infine in Brasile, in Brasile dove aveva deciso di stabilirsi, ospita anche in questo caso di una dittatura militare, e dove, secondo alcuni osservatori, avrebbe ripreso parte delle proprie ricerche, certo senza più cave umane, ma sempre con un particolare interesse per la genetica, i gemelli e l'oftalmologia. Questo era Josef Mengre. Due volte era riuscito a scampare agli agenti del Mossad, la prima proprio in occasione del rapimento di Eichmann, una squadra guidata addirittura da Iser Arel, il piccolo Iser, il comandante del Mossad all'inizio degli anni Sessanta in Israele, aveva cercato di catturare Mengre a Buenos Aires. L'aveva mancato di pochissimo, perché Mengre era stato messo sull'avviso dopo il rapimento di Eichmann ed era sparito improvvisamente. Un secondo tentativo era avvenuto in Brasile, ma anche qui la squadra del Mossad era arrivata con 48 ore di ritardo. Mengre è riuscito a sfuggire alla giustizia. Una giustizia che si è manifestata, se volete credere, al karma o al divino in forma di un ictus che ha colto il medico diabolico mentre era in acqua nell'oceano atlantico, mentre si faceva una nuotata nel 1979. È morto così Josef Mengre, nuotando in mare, vittima di un colpo apoplettico. Eppure la sua morte per lungo tempo non è stata creduta. Si temeva che fosse una messa in scena, un modo per uscire di scena e di guadagnare altro tempo e altro anonimato. Ci sono voluti anni, tanti anni, prima con dei controlli della scheda dentistica, poi con il controllo del DNA prelevato dal fratello di Josef Mengre e confrontato con i resti riesumati. Un confronto che ha dato una ragionevole dose di certezza al 99,69% quei resti che erano proprio di Josef Mengre. I suoi resti sono rimasti per un po' di tempo nell'Istituto di anatomopatologia di San Paolo in Brasile e poi sono stati tumulati. La leggenda tetra, buia, spaventosa dell'angelo della morte è finita così, in Brasile. Quel Brasile da cui qualche anno prima era partito un libro e poi un film, i ragazzi venuti dal Brasile. Una trama spaventosa diogenetica che partiva proprio dalle mosse di Mengele per l'incubo peggiore che qualunque essere umano potrebbe immaginare. Ricreare addirittura Adolf Hitler, in serie, in vari posti del pianeta, per cercare di restaurare o far ripartire il Terzo Reich. Certo, sono ipotesi fantasiose, frutto della penna di uno scrittore e poi di un regista di film. Eppure, tanto nel libro quanto nel film, Mengele era presente. La sua figura, all'epoca ancora vivente, era stata evocata come il babau, come un mostro mitologico, come quell'essere oscuro che si evoca per spaventare i bambini e indurli ad andare a letto la sera. Josef Mengele era questo, era la personificazione del male, l'uomo che aveva sovvertito il proprio giuramento da salvare vite quanto più possibile, a sottrare vite per i suoi scopi anti-umani e anti-scientifici. Questo era Josef Mengele, questa era la sua storia. E a voi lascio il giudizio finale su chi sia stato questo personaggio. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.